Benvenuti, è un piacere accogliervi qui. Oggi vi parleremo del futuro della cucina. Vi piacerebbe tagliare senza difficoltà gli alimenti congelati? Sì signori, grazie alla tecnologia oggi è possibile. Sono felice di presentarvi questo incredibile coltello, Power Knife. Sembra un normale coltello, ma è un accessorio speciale perché può tagliare il cibo congelato. È l'accessorio che mancava nella nostra cucina, ma qual è il suo segreto? Il segreto sta nella sua tecnologia Steel Heat, che permette alla lama di scaldarsi fino a 200 gradi. Ma non solo, questo meraviglioso coltello è reso super affilato grazie alla precisione di un'affilatura laser. Vediamo se ho capito, non solo è un coltello super affilato e di altissima qualità, ma la sua lama si scalda ad alte temperature e permette di tagliare anche il cibo congelato. Esatto! Quando acquistiamo del cibo, spesso ne facciamo una bella scorta per questioni di tempo, di economia. E dopo che cosa succede? Che lo congeliamo, così ogni volta che ne abbiamo bisogno, dobbiamo perdere ore per scongelarlo. Qualsiasi metodo usiamo ci vuole tempo. Col microonde è un poco più veloce, ma sappiamo che può essere dannoso per la nostra salute. Ma immaginate di poter tagliare esattamente la quantità di cui avete bisogno e di poter rimettere il resto subito nel freezer. Sarebbe fantastico e il cibo sarebbe conservato nel modo più corretto. Esatto! Con il magico Power Knife potrete farlo e ve lo dimostreremo. Ora, aiutami a tagliare questo pezzo di pollo. Proviamo! Ma è impossibile perché è congelato! Dai, riprova, dai! Non ci riesco, rischio di farmi male al polso! Lasciami provare con il nostro Power Knife. Incredibile! Ma tu sei un professionista, fai provare me! Certo, fai pure! Grazie! È congelato, ma si taglia senza problemi! Questo è il potere di Power Knife! Proviamo con il salmone! Certo, perché no? E posso tagliare tutta la mia carne surgelata! È incredibile! Ora prova con della salsiccia! Proviamo! Perfetto! La taglia senza problemi! Sapevo che te ne sareste innamorata! E anche voi a casa ve ne innamorerete! Risparmierete tempo, risparmierete le ore perse a scongelare il cibo e tutto sarà conservato nel modo migliore! Ho una domanda! Possiamo tagliare anche frutta e verdura? Certo! Chef, possiamo usarlo anche per cibo non congelato? Assolutamente sì! Power Knife taglia meglio di un normale coltello, è costruito in acciaio di alta qualità ed è affilato con la precisione del laser. Ecco perché i suoi tagli sono così precisi e uniformi. Per esempio il burro. Quando lo tiriamo fuori dal congelatore è durissimo. Ma grazie a Power Knife il taglio è molto più agevole e mentre taglia il burro si ammorbidisce ed è pronto all'uso. Questo è uno degli aspetti che adoro! Lo voglio! Non ho mai visto niente di simile! Ecco perché dico che Power Knife non è un semplice coltello, è un accessorio indispensabile in cucina. Fenomenale! È sconsigliato! Immaginate di poterlo tagliare senza scongelarlo! Vi presentiamo il rivoluzionario Power Knife! L'unico coltello che taglia il cibo congelato grazie alla brevettata tecnologia Still Heat che scalda la lama del coltello fino a 200 gradi! Pollo surgelato? Tagliato in un attimo! Guardate con che facilità taglia la carne congelata e persino un pezzo di ghiaccio! Potete spalmare il burro senza più bisogno del pane tostato! Il formaggio viene tagliato e fuso allo stesso tempo! Posso tagliare ogni tipo di surgelato, carne, frutta, salmone, pollo e verdura! È il miglior coltello di sempre! Ricongelare il cibo è pericoloso! Ogni volta che lo facciamo gli alimenti perdono nutrienti, danneggiano la vostra salute o finiscono nella spazzatura! Power Knife taglia il cibo surgelato e vi permette di cucinare solo il necessario! È facile, rapido e senza sprechi! Power Knife è il rivoluzionario coltello a temperatura variabile con un design ergonomico e una lama in acciaio inossidabile affilata con il laser! Da quando Power Knife è entrato in casa, è l'unico coltello che usiamo! È più di un coltello, è un accessorio indispensabile in cucina! Basta attendere ore per scongelare gli alimenti! Basta usare il microonde, che è dannoso per la salute! Power Knife taglia ogni tipo di cibo congelato come fosse burro! Approfittate di questa incredibile offerta e se chiamerete ora riceverete anche il Rolling Blade 360 gratis! È un coltello circolare per tagliare pizza, verdure, dessert e insalate! È un'offerta limitata! Si tratta di due coltelli più moderni al mondo!